continui a consumare anche su spotify su youtube su qualsiasi ma perché l'obiettivo di queste grandi aziende di tecnologia o social o streaming il loro obiettivo il loro obiettivo principale è tenerci incollati perché secondo te cominciamo che guadagnano prima cosa così c'è sempre una domanda di exploration and exploitation si chiama tipo esplorare per trovare nuovi film oppure nuova musica che tu forse mai non ha mai ascoltato tipo se io arrivo qua e ti dico guarda questo pezzo di dal grezzo bellissimo questo bar questa banda scuola però forse se netflix lo fa o spotify forse dici tu non mi piace è strano e quitto e vado su youtube cioè la prima roba è di consumare di più per guadagnare di più ma potrebbe essere un po ingiusto